Davanti al mondo intero, la cortina di ferro cominciava a essere rimossa. Tuttavia, il Tg serale austriaco era all'oscuro della portata dell'evento. La loro notizia principale parlava di lumache. La conduttrice consiglia ai giardinieri di mettere della birra in un vasetto e di lasciarlo per la notte. Questo dovrebbe attirare le lumache, amanti della birra. E se eri fortunato, potevi prenderne parecchie, fino a 70 o 80. E ora passa alla seconda notizia del giorno, il taglio del filo di confine. Ci volle del tempo prima che il mondo capisse il significato di questo evento. Oggi, la cortina di ferro rimane solo sotto forma di souvenir. Poi, arrivò la caduta del muro di Berlino. Questo era il più grande di tutti i simboli, ma in termini pratici, significava che all'improvviso milioni di tedeschi dell'est erano liberi. Ancora più della catena umana nei paesi baltici, questo evento non fu negoziato dai politici. Fu una manifestazione schiacciante del desiderio umano di libertà e unità.